Si dice che una mosca abbia la capacità di attraversare fori di soltanto un millimetro o poi però, una volta che è in casa, puoi tirare giù un muro a picconate ma non c'è verso di farla uscire. Eh, ma noi esseri umani mica siamo stupidi come delle mosche, noi siamo molto più intelligenti. Certo, quando si tratta di mettersi nei casini, lì siamo geniali. Quando si tratta di tirarsi fuori, ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Prendete 100 persone che hanno un problema, 99 di queste hanno solo due modi per risolverlo. Fare esattamente la cosa che facevano prima, però farla di più o farla di meno. Ad esempio, uno studente non va bene a scuola? Studierà di più. O dirà, basta, studiare non fa per me. Un lavoratore ha problemi sul lavoro? Perfetto, lavorerà di più, abbiamo anche un nome, si chiamano straordinari. Oppure dirà, questo lavoro non fa per me e lascerà il lavoro. Ce lo spiega Sir Joshua Reynolds, mica l'ultimo fesso del quartiere. Lui dice che non c'è spediente che l'essere umano non adotti per evitare la fatica di pensare. Ma infatti, noi trascorriamo la maggior parte della nostra vita col pilota automatico. Avete presente quando arrivati in un posto in auto e non vi rendete conto neanche di esserci arrivati? Ecco, quello è il pilota automatico. Quindi, quando si tratta di voler raggiungere i risultati di alto livello, quello che fa la maggior parte della gente è sempre sbagliato. E allora, dato che per avere successo l'obiettivo è quello di distinguersi dagli altri, dobbiamo avere delle idee che siano diverse da quelle degli altri. Ma ovviamente non sarò io in un video di due minuti a trovare la soluzione al tuo problema, anche perché Edison insegna. Per creare una lampadina ci ha provato 10.000 volte. Non è trovare la soluzione giusta istantaneamente la strada. Ma la chiave del pensiero geniale è un'altra. E cioè, probabilmente, l'idea che viene a te non è l'idea giusta. Ma senza dubbio l'idea che è già venuta a tutti è l'idea sbagliata.